Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e guardate un po' sono su Mario Kart 8 Deluxe, si perché mi andava un po' di riportarvelo era da un po' che non lo portavo, io direi di andare online ma di non andare nella corsa standard bensì di provare scusami eeeh modalità online, non potevo fare, vabbè andiamo sul mondiale, ma andiamo sulla battaglia sulle battaglie, perché è sulle battaglie, io le battaglie non le ho mai fatte praticamente e chi prendo, è da un po' che non tocco, perché ho le impostazioni sminchiate prendiamo tipo timido, lo prendiamo azzurrino e cambia, oddio no, no no aspetta 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 togliamo, non ho scelto, non ho scelto, no mi fai scelta e vabbè dai prendiamo quello standard, tanto comunque è battaglia non ho neanche fatto in tempo a vedere, madonna quanta gente non ho neanche fatto in tempo a vedere cosa c'era eeeh ok non so neanche che battaglia abbia preso va bene, chissà che, perfetto sole custode, oddio io giocavo con i palloncini onestamente quindi non ne ho idea, comunque sono tutti novizi, bene e sono con mille punti, perché abbiamo detto a battaglia semplicemente ruba il sole e scappa, ah ma io di questo sono un maestro allora il problema è, da parecchio che non tocco Mario mi ricorderò bene i tasti oddio eeeh, si dai 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 eeeh, mio aiuto aiuto no merda no, 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 no e vabbè però un attimo, un attimo, un attimo un attimo allora così si è che vengo un attimo da da, da crash team racing so se allora non so neanche quando uscirà questo video nel senso eeeh se come uso gli oggetti come li uso ah ok così era il pulsante vengo da crash team racing tra l'altro non so neanche se quando uscirà questo video avrò già portato eeeh il eeeh la serie di crash ma eeeh io l'avevo eccolo no 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 ma dai eeeh occhio alla bomba occhio alla bomba bomba eeeh cazzarola ah qua c'è un po' di casino eeeh devo dire che non è eeeh non è così malvagio il ho pagliato tasto com'è che si dribbla cioè com'è che si com'è che si eeeh ah no devo devo mollare vero non è come crash che devo premere il pulsante qua grazie 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 uila via 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 aiuto 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 no 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 troia attenzione attenzione eeeh ancora guscio rosso no quanto quanti punti ho fatto non ne ho idea non ne ho idea però molto pochi perché io vorrei andare inizialmente su cioè su dopo vedete dove voglio andare quindi eh dove è andato quello eh lui è stato furbo è andato là vorrei andarci anch'io là sopra eh andiamo è di qua no è andato via eh vedete cioè lui ha fatto quello che dovrei vorrei fare anch'io in realtà quindi lasciate il mio sole lasciate il mio sole il sole è solo mio è solo mio guarda qua era un altro tipo timido era un altro tipo timido madonna madonna no sono arrugginatissimo arruggin arrugginito arrugginito un casi eh vabbè su su mario kart era da troppissimo che non ci giocavo e si vede e un po' si vede vorrei madonna madonna ma a parte che ammetto che mi diverto quasi di più qua che in gara perché almeno qua fino all'ultimo non puoi mai sapere sapere dicevo e che cazzo vieno qui centro e quindi mi sto ah perché va a timer ah il primo che arriva a zero quindi ok ok quindi io devo devo non sapevo questa cosa del timing sinceramente beh te l'ho rubato ed è mio ed è solo mio via no 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 è solo mio 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 signore avete capito è mio è mio 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 vado su vado su vado su opla eccomi e adesso e adesso ah no devo muovermi per forza se no eh ovviamente potrebbe essere così semplice no porca vacca vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua chi ha il sole chi ha il sole no no ovviamente era troppo facile stare fermi per 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 citare il sole cioè anzi per lodare il sole via no cazzo vabbè c'erano i osci i black quindi insomma gli manca ancora tanto effettivamente quindi potrei andarci eh col fiore di fuoco che ovviamente non lo prende nemmo nemmai guarda è utile che stai fermo non ti avanza il tempo tesoro non ha ahia c'era un tipo timido ma lui l'ha appena preso il sole che cazzo faccio con la piuma scusatemi ah posso fare così con la piuma posso fare con no eh no non posso fare così allora dov'è il sole ehi ehi eh furbo questo non male non male non male davvero peccato che il sole sia a terra eh vabbè eh vabbè anzi lo aspetto per di qua che son scemo io scusami scusami tipo così no 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 oh madonna ho missato ho missato tantissimo vieni qua pezzo di merda eh però no doveva darmelo il sole è mio è mio pezzi di dove dov'è dov'è dove cazzo dai dai che sono un chirurgo bella non l'ho preso io ma chi chi se ne fotte chi se ne fotte dai madonna durano più queste partite che ha c'ho un'ansia costo bella madonna che precis madonna che preciso eh niente ho avuto una precisione chirurgica ma mi sa che vince lo Yoshi Blue eh mi sa tanto di di si perché ha un eh eh no 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 via no chi l'ha preso no 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 pensavo di averlo preso ah cinque minuti sono passati ok sono arrivato terzo sono arrivato terzo non male non male non male per davvero ah peccato peccato bella bella terza terza come prima partita non è male mi ha messo una mi mette più ansia più questo dei circuiti eh siamo sempre con siamo sempre con il sole o cambia eh questo non ne ho idea magari se ci divesse dei giri due tre giri di aspettate un attimo cambio cambio veicolo vorrei cambiare non posso cambiare veicolo niente niente allora non allora di Mario Kart modalità così ne porterò poche cioè nel senso tanto per variare un po' eh giusto perché era da un po' ne sentivo anche la mancanza fisica di portare questo gioco che mi è piaciuto tantissimo che continua anche a giocarci con gli amici in in split quindi il percorso scelto cos'è base lunare sì ma cosa intanto sono yeah ciao ciao sono l'unico italiano ciao ah palloncini palloncini bene vengono a colpire gli avversari in malo modo tenere i palloncini nostri i propri e e vedere insomma di fare bene vediamo tre minuti di tempo dai bella dai che mi intorno a capire come si gioca ok allora vediamo di allora vediamo di qua 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 vai intanto posso anche lanciargli a cazzo esatto vedete lanciargli a cazzo perché effettivamente non c'è una vera e propria logica ho colpito qualcuno a cazzo quindi lo scopo è colpire a cazzo la gente a cazzo praticamente quindi io lancio robe a cazzo attenzione quando sto dicendo a cazzo mamma mia mamma mia non si vede niente non si capisce niente no no dammi un pacco dammi un bel pacco io vorrei un pacco tipo questo tal tail vieni qua tail vieni qua vieni qua tail vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua eh niente non riesco a prendere però io lo sto seguendo è come un predatore come un predatore eh ma un guscio rosso magari ogni tanto no eh mamma mia mamma mia eccolo qua eccolo qua merda e tipo tipo questo mamma mia ho colpito Jeremy attenzione attenzione si corre si tryar vai 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 lanciamoli tutti beh ancora c'è scusa Jeremy ma sei in mezzo ai coglioni quindi io non faccio prigionieri ho tre banane sono ah sono anche primo sono anche primo raga attenzione che i palloni qua i palloni mi danno vittoria no non sono più primo sono più primo e ehi ceo ti ha colpito bastardo bastardo ah no questa ahia Yoshi maledetto il coso deve essere utile per schivare i polpi ma qua solamente gusci verdi mi dai ah questo rubo i palloni alle versari se riesco vi faccio vedere come si se riesco vi vorrei far vedere come ma sai che ho un palloncino solo no urge rubarlo urge rubarlo bella ho anche questa e ovviamente non ce l'ho fatta urge rubarle tipo con le fiamme no con le fiamme ci sono anche le bombe allora c'è un po' di tutto è bello che mi sono anche stupendo ahia quando ti colpiscono eh perdi punti e vieni rimesso in in campo quindi in teoria punti si dimezzano in teoria eh non vorrei dire una una boiata ma dovrebbe essere che punti si dimezzino vero? beh ma si ma è passato in mezzo dai dove è il mio culo all'inizio che ho lanciato cose a cazzo tipo ti tipo tipo Yoshi rosa bravo bravissimo tipo te tipo te tipo te tipo tipo te vero ma porca troia oh si ma proprio la base lunare con tutte ste gobbe come faccio io come faccio no mi vuolano anche i pacchi sei proprio infami proprio non mi fai un cazzo di nessuno tipo te no no eh fine eh no qua due punti qua ho fatto eh madonna quarto però quarto qua eh ma ottavo ho fatto il primo qua ho fatto un po' schifetto eh lo ammetto facciamo un'altra io direi di poterne fare anche un'altra dai si 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 mi va di di tentare dai tentiamo la terza però cambio 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 metto la metto la la motina la motina anche moto standard va bene si perché qua praticamente ho cambiato la switch e non non e non e non ho fatto il passaggio non non eh ho cambiato eh si eh vabbè e quando uno è scemo eh dillo Filippo sei scemo e quindi che ci posso fare allora vediamo cosa c'è oh battaglia bomba non ne ho idea eh c'è anche l'il zia s Amari Alvaro probabilmente Alvaro Soler e poi i soliti di prima ah ah ok è sempre quei palloncini ma solo bombe sono oh raga qua non avete idea quanto io mi potrò divertire a colpire malissimo la gente quindi io direi di ah abbiamo già la bomba è solo bomba è solo bomba ah la mia ok io sono immune alla mia due quante bombe posso avere alla fine al massimo quattro cinque sei siamo seri sei io intanto madonna colpito colpisco gente colpisco gente e non posso essere colpito cioè nel senso dalla mia il che ha senso se ci pensate tipo quello eh io ne vedo uno là quindi la lancio niente 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 ma la lancio indietro o la lancio avanti avanti bella bella bellissima bellissima vai 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 bombe bella questa è anche è anche ha colpito anche colpisco anche gente a cazzo come è possibile se io tipo mi butto di qua e la lancio indietro e la lancio un'altra indietro no no però la gente non mi ha ancora colpito però occhio a dirlo infatti mamma mia attenzione 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 vai bella 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 8 punti siamo seri raga siamo serissimi vai no non l'ho preso non l'ho non l'ho minimamente preso ma con le bombe sono un cecchino cioè guardate adesso la lancio a cazzo ovviamente non così a cazzo e beh ecco qualcuno guardate guardate opla non è con nessuno ma dobbiamo anche vedere un attimo la mappa tipo qua tipo qua mamma mia mamma mia vieni qua infame 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 che sei e niente non riesco a a prenderlo madonna ma sbaglio o se io lancio una bomba e entra un atto con un'altra bomba si annulla no perché non mi pare di essere stato colpito tipo niente sono comunque primo il che mi fa anche molto piacere Roberto a lanciarla però io vorrei intanto andiamo per di qua qua non c'è nessuno sono tutti giù quindi se io ne lancio due a cazzo qualcuno prenderò no ovviamente neanche mezzo neanche mezzo attenzione attenzione alle bombe anche perché se io perdo tutte le vite poi rimango con mi danno metà punteggio cioè nel senso rinasco respono con la bellezza tra virgolette di quattro punti solo perché me li dimezzano quindi non è proprio il massimo della vita madonna guarda quante bombe io ne mollo una qua mollo una qua perché so che colpisce qualcuno infatti nove nove un'altra dietro ho capito che c'è Mario eh ma Alvaro insomma Alvaro eh vai 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 madonna via sono un cazzo di dinamitardo sono sono primo però attenzione ho due merda ho due due corone due vite se vengo colpito adesso è la fine è la fine della mia esistenza perché cazzo perché perché andrei a sei punti praticamente quindi mi conviene andare un attimo in disparte qua ho cinque secondi dove dove siete dove siete siete ah ok ho vinto ho vinto ho vinto con madonna madonna ma ma di tantissimo cioè non ho vinto qua ho ho regnato bene bene ragazzi il video di Mario Kart termina come la vado da vincitore come succedeva sempre tra virgolette sempre con gli altri in bocca al lupo vi saluto ragazzi grazie per aver seguito questo questa partita extra su questo video extra di Mario Kart 8 Deluxe però credo vi sia piaciuto commentate condividete se volete il ritorno Mario Kart 8 Deluxe nella programmazione quindi un video magari ogni tanto anche una volta a settimana o uno ogni due insomma fatemelo sapere commentando condividendo fate un bel mi piace al video e perché no iscrivetevi ciao ragazzi